Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo, questa è una nuova puntata di FWG Tech dove parleremo soprattutto di TikTok e per farlo ho voluto qui con me Alessio Atria, benvenuto. Grazie, grazie di avermi invitato e ciao a tutti. Ma tutto questo succederà dopo la sigla. FWG Tech Un programma di Gabriele Gobbo Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben ritrovati in studio amici telespettatori, dicevamo TikTok, il grande sconosciuto al grande pubblico qui davanti ai nostri teleschermi e quindi ne parleremo con Alessio Atria, TikTok specialist, ovviamente esperto di marketing, social media, tutto quello che già sapete che viene qui in tv con noi. Ben ritrovato di nuovo Alessio. Grazie ancora, grazie di avermi invitato. Sì, oggi parleremo di TikTok, un social diciamo per molti conosciuto solo per balletti, ma in realtà non è solo questo. È tutto giusto, perché ovviamente man mano che le piattaforme evolvono e diventano conosciute, si amplia il pubblico. Parliamo di tanti milioni di italiani che guardano e vivono TikTok, ma arrivano anche gli adulti. Vero è che è partito da social dei giovani come tutte le nuove tecnologie, ma poi piano piano ovviamente vuoi la curiosità, vuoi contenuti che diventano sempre più impegnativi, più ben fatti, eccetera, anche gli adulti si avvicinano, ma soprattutto le aziende. Alessio, com'è la situazione oggi in Italia di TikTok? Allora, diciamo che siamo arrivati a circa 20 milioni di utenti, quindi numeri molto elevati. Se calcoliamo il tempo che è impiegato a fare questi numeri rispetto a Facebook e Instagram, calcola che su Facebook e Instagram ci sono 35 milioni, 38 milioni di utenti e questi social esistono già da tanto tempo. TikTok non dà molto e l'età media si è alzata notevolmente, siamo quasi sui 6-7 milioni di persone sopra i 34 anni di età, quindi gli adulti ci sono e come e ci sono anche diverse aziende che ormai investono tanto su TikTok perché tutto ciò che è B2C e quindi è alla portata di chiunque, cioè chiunque ha un prodotto da vendere per qualsiasi tipo di consumatore deve essere su TikTok. Ormai sono veramente poche le aziende che è meglio che non ci siano. Sai Alessio, è giusto quello che dici, l'esplosione di TikTok è stata rapidissima, non andremo a spiegare come è nato le acquisizioni da quanti social è stato creato e poi è arrivato qui, ma da quando si chiama TikTok è stata una crescita velocissima probabilmente per il formato che ha tirato tantissimo. Mi piacciono anche i numeri che hai detto, alla fine Trampor aggiungerà gli altri social che ci hanno messo tantissimi anni ad arrivare lì, ma non hai notato anche tu che i social di cui abbiamo parlato fanno di tutto per rubacchiare l'idea TikTok, per stare in scia e non perdere utenza, o mi sbaglio? Esatto, diciamo che TikTok ha rivoluzionato il mondo della comunicazione perché parliamo solo di video, e video brevi, una nicchia di mercato che fino a qualche anno fa non era stata ancora esplorata, o meglio dalle storie di Instagram però, diciamo che non si era mai creato un social solo video brevi e questa cosa qui è piaciuta agli utenti e al punto che adesso tutti scopiazzano qua e là, ma anche TikTok scopiazza alcune funzionalità di Instagram perché comunque è una guerra tra social e soprattutto è una guerra, la chiamano la guerra dell'attenzione, cioè qualsiasi canale ormai ha l'obiettivo principale che è quello di intrattenere il più possibile gli utenti sulla piattaforma. TikTok su questo è il maestro, perché? Perché TikTok è una piattaforma nata per intrattenere, mentre Facebook e Instagram, Facebook per comunicare quei messaggi inizialmente, Instagram per fare le foto, su TikTok si intrattiene, punto. Se noi utilizziamo TikTok ci accorgiamo che i video occupano tutto il display del cellulare, appena apri TikTok c'è una musica, c'è la musica che ti spacca i timpani a momenti, cioè quindi è studiata per intrattenere e poi con il discorso che ci sono video brevi, quindi 15 secondi, 30, le persone si perdono, cioè tu guardi un video e tanto dai 15 secondi, passano due ore e neanche te ne sei accorto. Ti ricordi i meme che dicevano è l'una di notte, apri YouTube e poi sono le 6? Una volta era così, guardavi i video in continuazione. Su TikTok che tutti fanno video, allora diciamoci la verità, dipende tanto da come lo usi, perché ha uno degli algoritmi di selezione di video migliore, quindi ti propone quasi sempre cose che ti interessano, io vedo la differenza anche tra i miei stessi cellulari. In uno c'è tante cose divertenti, la coppia che fa ridere, in uno c'è tante cose, c'è lo scienziato che ti spiega le cose, Manolo Trinci mi pare si chiami che fa la grammatica, più guardo una cosa sul cellulare, più cose mi mostra e nell'altro altre, quindi è sempre in scia con i miei interessi ed è qui la vera potenza di TikTok, secondo me, cioè la bravura a mostrarti sempre cose che ti interessano. Quindi se hai 18 anni, così non entriamo in polemica, le cose da 18enne, se ne hai 40, le cose da 40enne, ma posso dire che è precisissimo? Esatto, cioè l'algoritmo di TikTok, essendo nato dopo gli altri social, ha preso il meglio di tutti ed è talmente preciso che TikTok, quando tu installi l'applicazione e non crei il profilo, cioè senza creare un account, inizia comunque a categorizzarti, inizia a mostrarti video in base ai video che tu guardi. Quindi quando mi dicono che io vedo solo balletti, è perché tu guardi quello, punto. Non è che TikTok si sveglia all'inizio, quando tu installi, cioè che crei il profilo, lui ovviamente non ti conosce, ti propone i contenuti più disperati. Però se tu inizi a mettere non mi interessa più i suoi video che non ti interessano, inizi a seguire, interagire con contenuti che effettivamente sono inerenti a quello che andrai a pubblicare sul tuo profilo, in questo modo, uno, lui ti mostrerà contenuti sempre più simili ai tuoi gusti, e due, categorizzerai il tuo profilo, perché cosa succede? Che ogni profilo viene categorizzato dall'algoritmo e questa cosa accade in primis che i contenuti che noi pubblichiamo, ok? E l'altra cosa in base ai video con la quale interagiamo e quei profili che interagiamo. Perché, ad esempio, se io pubblico ricette di cucina, è ovvio che non andrò a interagire con persone che parlano di make-up. Perché? Perché mando in confusione l'algoritmo e di conseguenza, quando io andrò a pubblicare un video di cucina, se lui ha capito che in realtà mi piacciono anche cose di make-up, cercherà di mostrare i miei contenuti anche a quella nicchia che probabilmente poi non è effettivamente interessata, perché è uno che fa make-up, che si trucca. Non penso che gli piacciono i miei video dove mostro le ricette di cucina. E infatti, grazie al suo algoritmo potente, la cosa super consigliata è quella di mantenere il profilo ben categorizzato e poi soprattutto, diciamo che, grazie a questa cosa, TikTok è usato dalle aziende e da brand multinazionali nella fase di awareness, quindi per farsi conoscere a più persone possibili. Ma Alessio, scusa se ti interrompo, poi parleremo anche di aziende perché abbiamo diversi piccoli imprenditori che ci seguono. Quindi, per spiegare in maniera semplice, TikTok parte a una specie di imbuto, parte mostrandoti i video più generali possibili per poi stringere fino ad arrivare ai tuoi due o tre interessi che di solito sono i principali, no? E quindi poi ti seguirà sempre di più in quegli interessi. Proprio è un imbuto che poi le aziende possono utilizzare, che poi quando dico le aziende, adesso intendo tutti noi perché tutti noi abbiamo un'azienda o un lavoro, quindi fa bene a tutti che ci sia questa cosa, se fatta legalmente, GDPR, bla 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 bla. Quindi, dall'imbuto all'azienda... Allora, in pratica che cosa succede? Che aziende o comunque chiunque venda un qualcosa o un prodotto o servizio da offrire, diciamo, a mercato, su TikTok viaggia alla grande perché vai a sfruttare la potenza dell'algoritmo per colpire sempre un pubblico che è interessato a quello che tu hai da dire, ma la novità e soprattutto la differenza principale con Instagram è che TikTok mostra i tuoi contenuti sempre a un pubblico nuovo. Quindi c'è la sezione dei per te di TikTok che è la sezione principale. Noi all'interno di quella sezione vedremo per l'80% dei contenuti video di persone che non seguiamo. Quindi che cosa vuol dire? è che se noi vogliamo colpire un pubblico sempre nuovo che non ci conosce dobbiamo utilizzare TikTok. Perché? Perché funziona così. Perché TikTok, per intrattenere, ti mostra contenuti di persone che non segui. Perché? Perché tu vedrai sempre contenuti inerenti ovviamente a quello che vuoi guardare, però di gente nuova e quindi sarai sempre incuriosito e rimarrai a guardare i video. Questa cosa qui se è utilizzata in maniera strategica e in maniera sensata è molto utile per farsi conoscere e soprattutto per creare delle community molto più vaste. Ti faccio un esempio cioè un esempio in realtà no mille cioè io ho collaborato sia con influencer che sono partiti da zero e adesso hanno community dove vendono corsi, infoprodotti vabbè fanno delle collaborazioni con brand quindi si vendono loro stessi. Sono partiti da TikTok perché da lì sono arrivati a migliaia di persone e poi da migliaia per la legge dei grandi numeri prendiamoci chiaro da migliaia e milioni di visualizzazioni queste persone diventano tue fan da fan costruisci una community e poi da community monetizzi che è la stessa cosa che diciamo lo stesso processo che fanno anche le aziende. Ma Alessio tu mi stai parlando dell'80% di contenuti di quelli che non seguiamo che è tra virgolette rivoluzionario rispetto ai social più famosi che non rinominiamo sennò i video ci abbassano la reach però siamo abituati a vedere sempre le stesse cose perché nella maggioranza dei casi ci vengono mostrati contenuti di quelli che seguiamo dei nostri amici di chi mettiamo il follow eccetera. Al di là delle ultime rivoluzioni ad esempio del social delle foto che ha ampliato la reach va verso una reach universale soprattutto con il formato reel che sarebbe il tiktok dall'altra parte che mostra tutto a tutti ma fino a prima cioè tu seguivi dieci persone vedevi contenuti di dieci persone l'altro socio di cui stiamo parlando ha detto eh no io mostro tutto a tutti l'importante che sia nel target giusto e qui secondo me è diventato esplosivo perché finalmente siamo usciti da quello che tutti noi definiamo la bolla un giorno parleremo della bolla cari amici telespettatori esatto cioè poi la cosa micidiale è che in questo modo tu hai la possibilità veramente di raggiungere migliaia di utenti se non milioni di utenti pubblicando i tuoi video in organico quindi senza spendere soldi sponsorizzate e se sei bravo riesci veramente a scalare perché? perché l'algoritmo di TikTok è così potente che continuerà a cercare sempre persone nuove inerenti al tuo argomento a cui mostrare i tuoi video e di conseguenza se tu sei bravo a fare contenuti teni il profilo ben categorizzato puoi veramente esplodere cioè ci sono persone veramente che in Italia sono arrivate in tutto il mondo e sono adesso veramente i primi nella loro nicchia a fare determinate cose c'è un ragazzo che è esperto di profumi lui è arrivato ovunque grazie a TikTok dall'Italia cioè è arrivato in tutto il mondo cioè senza balletti sedere twerk è arrivato a fare numeri quindi c'è spazio esatto io sono contro nel senso i miei clienti per la maggiore non fanno balletti a parte qualche content creator però anche quello non fa balletti fanno cose creative ma diverse per il resto la maggior parte delle persone che si hanno attività locali quindi ristoranti negozi queste persone qua utilizzano TikTok per mostrarsi e far vedere una parte di loro dell'azienda che di solito magari fanno fatica a mostrare le persone tramite i video brevi si fidano di voi e una volta che acquistano fiducia in voi vengono ad acquistare anche i vostri prodotti e servizi e questa qua è una cosa che è la base cioè ormai quando si parla di storytelling si parla di story doing eccetera eccetera è questo cioè le persone si fidano di voi comprano da voi le persone vi vogliono conoscere per quello che siete ovviamente un video è meno taroccabile di una foto sai metti lì la foto figa invece i tanti video brevi mostrano veramente chi sei soprattutto nel lungo periodo e questa cosa qua funziona tantissimo alla fine si cambiano i termini storytelling da 40 anni ma la grande verità è che bisogna fare dei contenuti per mostrare se stessi e acquisire la fiducia del potenziale cliente è chiaro che staroccare è facilissimo c'è stato un periodo che si staroccavano le foto tutti i filtri di Instagram adesso chi usa tanti filtri viene addirittura preso in giro quindi per chi è a casa cercate il più possibile di essere voi stessi anche perché parlando di ristoranti se tu metti una foto o un video di un piatto bellissimo fantastico poi nella realtà è un piatto buono normale ma non così bello importante come nelle foto uno arriva lì che vuole quel piatto non c'è forse fa peggio ma una domanda che volevo farti noi adesso stiamo parlando molto di TikTok perché la puntata io ho chiamato Alessio Atria proprio per quello ma alla fine le aziende dalle piccole alle grandi ma insomma l'Italia è fatta per lo più di piccole e medie imprese micro imprese devono chi non l'ha ancora fatto e ce n'è devono iniziare a ragionare a livello di presenza sui social non solo TikTok in maniera più vasta tu sei più spostato con fai solo TikTok e sei a posto o meglio un mix o in base all'azienda esiste il social giusto io non ti nascondo il fatto che tantissime aziende mi contattano per TikTok ma poi andando a scavare a fondo manco fanno TikTok cioè dipende da quello che un'azienda ha bisogno sinceramente perché perché se è un'azienda che fa B2B quindi che collab cioè che ha bisogno di altre aziende per vendere i loro prodotti e servizi perché sono cose macchinari industriali allora in quel caso non ti propongo TikTok cioè ti propongo magari LinkedIn o qualche altro social dove è più probabile che tu riesca a vendere i tuoi macchinari industriali o ti propongo altri strumenti ovvio che io dico sempre che anche in questo caso TikTok è utile perché noi andiamo a capire innanzitutto come comunicare in modo breve e efficace con contenuti perché è quello che vuole adesso la società cioè ormai noi dobbiamo essere capaci di catturare l'attenzione dei nostri clienti perché clienti o potenziali clienti sono sempre più distratti e li catturi con o con il video breve o con un post o un'immagine che proprio spacca lo schermo che io tanto che scrollo mi fermo a guardare che cos'è che hai da dirmi perché sennò è molto complicato quindi questo qua TikTok può essere una palestra per questa cosa qui e poi sicuramente oltre a questo discorso c'è pure tutto un discorso di contenuti cioè di video ok che ormai appunto con i video le persone si fidano di te quindi questa cosa qui va assolutamente sfruttata per io dico per tutti perché bene o male è così purtroppo o per fortuna sperimentare sperimentare Alessio è una cosa che dici davvero molto giusta fare palestra in un posto per poi applicare delle regole in altri è la base insomma del progredire con la nostra comunicazione ricordo quando è uscito quando è nato Twitter ci diceva tra di noi che facevano questo lavoro se riesci a spiegarlo nei pochi caratteri che ti dà Twitter vuol dire che la cosa funziona e puoi spiegarla a tutti ma ci siamo abituati una volta con gli sms a dire le cose in poco tempo lì toglievamo lettere no però piano piano vedi che se tu a me pare che TikTok sia un po' la somma di tutta la palestra che quelli che hanno una certa età hanno fatto negli anni una battuta su questa poi andiamo in chiusura cioè io quello che dico su TikTok tantissime persone dopo che altri social hanno fatto gli upgrade quindi hanno cercato di copiare TikTok tantissime persone che seguo che conosco cioè non hanno fatto nessuno sforzo a passare da là a là perché perché hanno già abituati e quindi questo è una palestra per tutti ma tra l'altro anche ci sono medici ci sono tantissime figure che sono abituate a parlare in modo complicato perché c'è la loro professione e ringraziano TikTok perché magari adesso quel concetto lo spiegano in 30 secondi stessa efficacia di spiegarlo prima magari in 15 minuti quindi per ora la parola influencer che detto tra noi non vuol dire mettere tante foto sui social ma influenzare l'acquisto viene bene su TikTok perché c'è un tasso di conversione ne parleremo anche del famoso tasso di conversione che vuol dire quanti comprano di quelli che erano sul tuo sito ma siamo un po' troppo in là il tempo è giunto alla fine prima di tutto abbiamo parlato di TikTok con uno specialista di settore che ho chiamato qui apposta con me Alessio Atria grazie di essere stato qui con noi spero tornerai molto presto grazie a voi di avermi invitato e grazie a tutti voi correte su www.fwgtech.it come dico sempre abbiamo sfondato le 130 puntate gli anni sono tanti ma ci sono anche le puntate del podcast e quelle radiofoniche insomma c'è un po' di tutto la lista dei social su TikTok trovate me l'appuntamento ovviamente con i programmi dopo di noi e per quanto riguarda FWG Tech e l'avatar digitale di Gabriele Gobbo l'appuntamento è per la prossima settimana arrivederci FWG Tech un programma di Gabriele Gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali guarda il programma on demand su web YouTube Facebook e tutti i social network www.fwgtech.it www.fwgtech.it